Partiamo dalla riete. L'atmosfera con il partner è più distesa e seppure le questioni di principio vi vedono ancora in disaccordo, l'armonia sta tornando a regnare. La salute è buona, però dovreste pensare fin da ora a un po' di sport. Toro, dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non potete adagiarvi sugli allori, le stelle vi invitano a guardarvi dentro. Gemelli, giornata decisamente radiosa. Un mix ben dosato di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative. Gli astri di oggi sollecitano il desiderio di cimentarvi in sfide ed esperienze nuove. Cancro, le stelle vi complicano un po' le cose, soprattutto a livello professionale e personale. Il dilemma è sempre lo stesso. Lavoro o famiglia? Leone, vi aspetta una domenica all'altezza delle vostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggetto istruttivo, una mostra d'arte. Oggi tutto può succedere. I single si possono innamorare, le coppie datate recuperare lo splendore dei primi tempi. Vergine, anche se è domenica nella professione si aprono nuovi sbocchi e coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità. Raggiungerete risultati al di sopra delle previsioni nei prossimi giorni. Bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressiona favorevolmente coloro che si dichiarano pronti a sostenere le vostre iniziative. Dinamismo e forze di volontà vi terranno compagnia. Scorpione, il forte ascendente che avete sugli altri assieme alla vostra tenacia, potranno consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. Sagittario, si annuncia una fase pacifica, serena, ma niente affatto noiosa. Ideale per incontrare gli amici o dedicarvi al fitness o affrontare con coraggio una faccenda spinosa in famiglia. Capricorno, un progetto ambizioso vi frulla in testa ma esitate per paura di non riuscire. Chiedete consiglio a una persona fidata e seguite le sue indicazioni. Avrete anche voglia di relax e complicità. Acquario, approfittate di oggi per fare un breve viaggio, per lasciare a casa i problemi e per rilassarvi nel modo che preferite. Pesci, la lunga attesa viene finalmente premiata in ogni settore della vostra vita. Nel lavoro da domani avrete buone notizie. Nell'amore incontri già oggi da togliere il fiato e il sonno all'orizzonte.